Funzionari dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli e Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno intercettato presso il porto di Civitavecchia oltre 33.000 paia di ciabatte infradito in procinto di essere importate in Italia provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. Le fiamme gialle del locale gruppo insieme al personale dell'ADM della sezione di Civitavecchia durante i controlli di routine sui container provenienti dall'estero si sono soffermati sul carico di calzature procedendo al prelevamento di alcuni campioni per l'invio al laboratorio chimico. Le analisi chimico-fisiche da parte di quest'ultimo hanno evidenziato la presenza di una concentrazione di ftalato sostanza ritenuta nociva per la salute umana in misura superiore al limite consentito dalla normativa comunitaria e nazionale. Il rappresentante legale della società importatrice di etnia asinica è stato denunciato alla locale autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di adulterazione di cose a danno della salute pubblica e fino a giudizio definitivo di condanna vale la presunzione di non colpevolezza.